Un tempo raccoglieva l'acqua per dissetare gli animali da Soma. Parliamo dell'antico abbeveratoio Sant'Elia, sito in via Luigi Monaco, non più zona rurale ma periferia della città, oggi frequentata quotidianamente da persone e mezzi di trasporto. Un luogo caro alla memoria di alcuni nisseni che è adesso versa nel degrado poiché è abbandonato. Al posto dell'acqua, a riempire l'abbeveratoio, ci sono erbacce secche ed immondizie. Il desiderio di alcuni residenti della zona, desiderio espresso anche al primo cittadino Giovanni Ruvolo, è quello di ripristinare il luogo riportandolo alla vecchia tradizione affinché possa tornare a raccogliere l'acqua e ad essere un luogo simbolo della storia rurale nissena.